Un settantenne ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e di un'automobile in via a Pelosa a caselle di Selvazzano. L'impatto particolarmente violento è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Fermi. Luciano Zanotto, molto conosciuto nel quartiere di Chiesa Nuova, dove prestava servizio come volontario della locale squadra di calcio, è stato sbalzato diversi metri più avanti. Il mezzo sul quale viaggiava si è spezzato in più parti. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, prolungatisi per circa mezz'ora. Il conducente del mezzo coinvolto nell'incidente ha registrato un tasso alcolemico superiore al consentito e indagato per omicidio stradale. Quella di Selvazzano è la sesta vittima di incidenti stradali in appena una settimana in provincia di Padova. Una settimana nella quale un diciottenne ha perso la vita in uno scontro in moto a Vigo d'Arzere. Un'automobilista è rimasto vittima del tamponamento tra il suo veicolo e una cisterna sulla A13. Un 33enne è morto uscendo di strada a Piazzola sul Brenta. Un ciclista di 62 anni è stato travolto da un camion sulla Conselvana a Maserat, fino alla tragedia di San Martino di Lupari nella quale ha perso la vita il piccolo Martin Fior di otto anni, investito dallo scuolabus all'uscita delle lezioni. Ma il dramma è molto più ampio. I morti sulle strade della provincia di Padova dall'inizio dell'anno sono più di 40.